Sono 32 i progetti strategici dei distretti diffusi e urbani del commercio che la Regione Piemonte finanzia con 8.830.000 euro. Si tratta del più grande investimento degli ultimi anni sul commercio di prossimità, un segmento produttivo che costituisce una buona parte dell'ossatura economica del Piemonte e a definirlo sono il Presidente Cirio e l'Assessore al Turismo e Commercio Vittoria Poggio. Abbiamo incrementato da 5 a quasi 9 milioni i sostegni economici, sottolineano. Lavoriamo con i sindaci, con gli amministratori per rafforzare i sistemi locali che servono anche a riqualificare intere porzioni di territorio. In provincia di Biella è stato finanziato l'unico distretto urbano del commercio di Cossato che ha ricevuto 146.160 euro per interventi di arredo urbano e abbellimento delle vetrine. Niente invece per quanto riguarda il capoluogo della provincia, Biella. Soprattutto in questo momento di pandemia si sono stravolti degli equilibri che negli anni erano consolidati. E' giusto che il Comune, grazie anche al supporto della Regione, dia ai commercianti l'opportunità di fornire ai cittadini dei nuovi servizi commerciali. Chiaramente con il supporto anche delle associazioni di categoria e anche con le associazioni del terzo settore. Quindi un progetto direi a tutto tondo.